Non mangiamo voce pianeta. Ecco lo slogan in questo progetto presentato dal gruppo I Fantastici 5 della classe seconda D della scuola Giovanni Pascoli di Margherita di Savoia. I componenti del seguente gruppo sono P. Nicolò, noca team leader del gruppo e colui che si è occupato della creazione del progetto assieme a R. Francesco, mentre la composizione del suono è stata affidata a R. Vivian e P. Giulia. Infine, la scelta delle immagini è stata gestita dalla L. Nicolò. Prima di iniziare la presentazione, tengo a ringraziare il professor Cardillo Attilio Domenico, o meglio dire il proprietario del website ingiocad.tech, per averci dato l'opportunità di aver creato questo progetto. Nel caso foste interessati, il link per accedere al website del prof è bit.ly slash profincad. Procediamo subito con la spiegazione della produzione del cibo. Essa è un'attività umana che serve a sfamarci. Purtroppo importa maggiormente gli ecosistemi perché quello che noi consumatori mangiamo ha un costo elevatissimo di produzione e perciò richiede l'utilizzo di macchinari inadeguati al nostro ambiente. Di conseguenza, con lì che ne risente sempre, cioè il nostro pianeta, avrà un maggiore cambiamento climatico. Per questo motivo è nata l'alimentazione sostenibile che prevede il consumo del cibo in modo sano che impatta nel minor dei modi in ambiente, evitando così il consumo di CO2 presente nell'aria. Ecco dei consigli per essere dei buoni consumatori a livello di alimentazione sostenibile. Per prima cosa dobbiamo eliminare gli sprechi di cibo, poi dobbiamo ridurre il consumo di carne, successivamente dobbiamo consumare prodotti di stagione, poi dobbiamo prestare attenzione ai prodotti a chilometro zero e infine dobbiamo evitare prodotti industriali con packaging eccessivo. Per quanto riguarda la piramide alimentare, la piramide alimentare è una rappresentazione grafica che ci serve a spiegare le regole per una sana alimentazione. Essa ha la base i cibi che vanno mangiati con maggiore frequenza, mentre quelli più in alto con minore frequenza. Parlando della piramide alimentare ed ambientale messa a confronto, non sono la stessa cosa, poiché la piramide ambientale è una piramide alimentare rovesciata e ci serve a capire quanto i cibi che noi ingeriamo nel nostro corpo inquinano. Di conseguenza i cibi posti in alto alla piramide ambientale, quindi alla base, inquinano di più, mentre i cibi posti in base, so, alla piramide, quindi al vertice, hanno un minore impatto ambientale. Parlando dell'agenda 2030, possiamo dire che è una specie di agenda su cui i paesi dell'ONU hanno deciso di scrivere compiti da svolgere per avere, entro il 2030, un mondo migliore. Gli obiettivi dell'agenda 2030 sono 17, però noi oggi prenderemo in considerazione gli obiettivi 2, 3 e 12. Iniziamo subito dal numero 2, che consiste nello sconfiggere la fame. Nessuno di noi dovrà andare a letto con il nostro baco vuoto, perché senza esserci nutriti, non potremo avere le forze per affrontare le giornate. Vi rispondo subito alla domanda, che cosa possiamo fare noi? La cosa migliore che possiamo fare è quella di scegliere i prodotti che vengono coltivati nelle nostre vicinanze. Mentre l'obiettivo numero 3, cioè l'obiettivo del benessere e della salute, ci insegna quanto sia importante avere un sistema immunitario forte. La vera domanda che ci siamo chiesti è, perché dobbiamo dire benessere oltre che salute? Noi abbiamo capito che per star bene non dobbiamo avere solo un corpo sano, ma allo stesso tempo non dobbiamo avere dispiacere, angoscia e paura. Per quanto riguarda invece la domanda del che cosa possiamo fare noi, dobbiamo avere cura del nostro corpo. Per fare ciò potremmo lavare spesso le mani e i denti. Ultimo obiettivo di cui parleremo oggi è il numero 12, che rappresenta il consumo e la produzione in modo responsabile. Un esempio che faccio riguarda noi italiani che sprechiamo tantissima acqua per lavarci sotto la doccia. Infatti l'obiettivo numero 12 ci insegna che non dobbiamo sprecare le risorse che ci fornisce questo pianeta. Questo significa essere responsabili a livello di produzione e consumo. Invece per quanto riguarda la domanda del che cosa possiamo fare noi, la cosa che possiamo fare noi è quella di non sprecare le risorse che ci fornisce questo splendido pianeta. Il progetto è stato realizzato con il sito Canva. Le immagini ed alcuni riassunti sono stati presi da Canva sulla sezione elementi, Medical Facts sia immagini che riassunti di qualche slide, Agenda 2030 per ragazze e ragazze sia immagini che alcune tipologie di testi, Keep the Planet abbiamo preso dei riassunti. Per concludere questo bellissimo progetto, io e Don e il mio team, i Fantastici 5, vi dobbiamo ringraziare per l'attenzione che ci è stata fornita. Buon proseguimento di giornata.